Allora parliamo di responsabilità medica, oggi è un convegno qui alla Camera molto importante promosso dall'onorevole Gelli e la Cassazione sta affrontando anche questo tema e ci sono delle novità in arrivo? Sì, nel senso che la Cassazione preso atto della giurisprudenza di merito che si sta formando in tema di responsabilità medica intende arrivare in tempi stretti a costruire il diritto vivente, quindi è una risposta da parte del giudice della nomofilachia che presto arriverà, credo prima dell'estate, attraverso una serie di udienze tematiche che affronteranno temi della responsabilità medica e che attengono anche alla legge Gelli del 2017. La legge Gelli che applicazione sta trovando nei tribunali? I temi più dibattuti per ora sono quelli sulla retroattività delle qualificazioni che ha dato il legislatore in particolare quella sulla extra contrattualità, sulla rivalsa nei confronti del medico e poi il tema delle linee guida che ha trovato però più pronto il versante penalistico. Grazie.